Tra poco di meno un'ora al Juiz Stadium di Bergamo, l'Atalanta ospiterà il Liverpool per il ritorno dei quarti di finale dell'Europa League. Si riparte dal pesante 0-3 in partito ai re dalla squadra di Gian Piero Gasperini. Jürgen Klopp sono chiamati ad un'impresa simile a quella fatta 5 anni fa in semifinale di Champions League contro il Barcellona. Ma la Dea è una squadra ormai matura e cercherà di difendere il largo vantaggio. Le formazioni ufficiali di Atalanta e Liverpool.Gasperini opta per il classico 3-4-1-2 della sua Atalanta, Musso, Jim City, Enn, Colashinac, Zappacosta, Ederson, Derun, Ruggeri, Kupmeiners, Mirancuc, Scamacca. Klopp invece, a differenza della gara d'andata, opta per tutti i titolari del suo Liverpool alla ricerca di una rimonta disperata sull'Atalanta. 4-3-3, Alisson, Alexander-Arnold, Conate, Van Dijk, Robertson, Jones, McAllister, Szobozlai, Dias, Gakpo, Salah.